Da dove vieni? Mamma, capisci quando parlo? Da dove vieni? Dal mare. E i tuoi genitori? Un giorno scoprirai che l'amore è anche più forte della morte. Se qualcuno volesse comprare l'amore con le sue ricchezze, otterrebbe solo disprezzo. Nella vita esiste una sola felicità, amare ed essere amati. E perché le persone fanno la guerra? Perché non si conoscono? Guardate, laggiù c'è un ristorante. Ma non abbiamo i soldi. Seguitemi, anche questa volta ci penso io. Lei non ha capito una città? Guardi, lei si parli in modo ritorno alla voce, per cortesia. Ma no, guardi, lui si esprime così, sa solo gridare. È un macellaio. Andiamo! Andiamo, scoppa! Vai a casa, Piedriani. Vai a casa, non lo faccio più volte. Andiamo! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS